Con la firma per l'affidamento della progettazione tra l'Università di Teramo e il raggruppamento di professionisti, l'ex manicomio comincia a prendere corpo e vita. L'importo del progetto esecutivo per i lavori di realizzazione della nuova cittadella della cultura è di 1.125.000 euro, fondi del Masterplan, che prevedono complessivamente 35 milioni di euro per il recupero dell'antica struttura sanitaria, un'occasione di rinascita per la città. Dopo il concorso di idee oggi parte la progettazione? Sì, dicevo anche in precedenza punto di arrivo e punto di partenza, punto di arrivo di tutto il lavoro preliminare, ricordava il concorso di idee che in alcuni casi è stato scambiato anche come progettazione, erano soltanto delle idee per individuare attraverso una commissione nazionale che abbiamo raggruppato proprio per individuare lo studio e il raggruppamento di professionisti che doveva svolgere la progettazione. Mi preme dire e ribadire che i fondi Masterplan sono dei fondi concreti, un ente pubblico non potrebbe affidare la progettazione che ha frutto di una gara e quindi anche con un importo consistenza senza avere in cassa i fondi. I tempi di riconsegna del progetto per il recupero dell'ex manicomio di Teramo sono di 150 giorni, dopo i quali sarà indetta una gara europea per l'aggiudicazione dei lavori. Se tutto va bene il cantiere si aprirà a fine anno. L'anima creativa e progettuale di questa grandiosa ristrutturazione è il professor Paolo Desideri, già progettista della stazione Tipurtina di Roma e del Teatro Lirico di Firenze. Il progetto inizia da oggi, per il momento c'è una proposta, una serie di ipotesi, delle idee, abbiamo vinto un concorso di idee. Sono tutte quante volumetrie, in alcuni casi straordinarie dal punto di vista del loro valore storico, architettonico, però sono tutte volumetrie separate una dall'altra, che lavorano singolarmente come singoli oggetti. La proposta che noi abbiamo fatto e che è piaciuta e che è quella che ci ha meritato la vittoria di questo concorso, credo che prevalentemente sia stato apprezzato questo dato, cioè lavorare sulla continuità dello spazio pubblico come elemento in grado di mettere a sistema queste volumetrie esistenti, queste funzioni esistenti, le nuove funzioni che andremo a insediare. insediare.